ragazzi vi faccio vedere le cosini carini che ho preso dai metti per la casa questi calici che sono milky color ma sono lilla sono quattro c'erano proprio color latte e azzurri e color perdino pistacchio quindi questi poi vi faccio vedere le altre cosine ho messo tutto in questo scatolino perché avevo dimenticato la bocca di questa macchina comunque tre pezzi di questo questo colorino qua sono 1,9 euro speriamo siano buoni poi queste spinne per i piatti sono 5 poi quando ci andiamo fuori che lì ora è a specchio quindi mi vedo io ci trovo sia la citronella questa qui e andiamo a provare questi non so quali sono i migliori quindi li proverò entrambi poi siccome mi amo questo ve l'ho fatto già vedere l'ho trovato anche alla vaniglia l'ho preso e poi per i doppi e mello questo è 250 questo è 400 questa marca qui preso all'argan che ha lo stesso profumo di posto qui all'argan però era più grande ho preso questo poi della stessa marca ho trovato esergente universale questo vediamo che dice perfumo non di etnia di castretti di pitap per le rotamombe insomma tutte le superfici poi ho preso questi set di contentori sono 3 uguali 2 euro mettere una frutta pezzetti poi 6 pezzi di questi bicchieri in vetro piccolini questi sono tipo da amaro di sotto come una bottiglia sono da 80 ml poi questi 6 da 180 questi quadrati così mi piacevano poi da 195 ho preso quelli uguali a quelli piccolini qui lo mi piacevano i